Radio Radicali, siamo con Tony Ricciardi del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione Europa, per parlare con lui del voto in Portogallo. Allora, lì si è andati al voto anticipato perché il Premier, che aveva già governato una legislatura, sull'onda del successo di una legislatura era stato riconfermato, però ha avuto qualche problemino e è stato costretto a dimettersi e a mandare il Paese al voto. Questo ha favorito in qualche modo la coalizione di centrodestra, alla quale si è aggiunta un partito molto legato alle tradizioni, chiamiamole così, di Salazar, che si chiama Ciaga, che è stato definito un partito ultrapopulista, però forse non è sbagliato dire che sono dei posti un po' fascisti. Allora, io adesso non sono molto abituato a utilizzare questo termine, però stiamo lì. Allora, che valutazione dà di questo voto? Allora, intanto la prima, il Presidente del Consiglio si è dimesso per un errore materiale di scambio di persone, è bene ricordarlo a chi ci ascolta. Secondo, secondo, in che senso? Nel senso che era stato tirato in ballo in una vicenda nella quale lui non c'entrava nulla, però si era già dimesso, soprattutto qua, sembra un po' caffiana come situazione, detto questo. Poteva restare, visto che era innocente. Sì, però se ti dimetti non è che poi ritiri le dimissioni, dice no, abbiamo scherzo. Per i sindaci si può fare in Italia? Eh, no, i sindaci ha i 20 giorni che è diverso, quindi non è paragonabile. Detto questo, allora, in Portogallo è accaduto dal punto di vista del risultato elettorale quello che sta accadendo, diciamo, un po' in tutta Europa, o diciamo nelle democrazie diffuse, ovvero si arriva sempre più a, come dire, a un voto equilibrato. Il che mi lascia pensare che siamo dinanzi a una sorta di democrazia che tende verso il sistema binario, no? Quello dell'informatico è 0,1, nero e bianco. In questo caso si aggiunge un terzo fattore, cosa anche ricorrente accade in Germania, accade in Francia, accade in Italia, in Italia siamo andati oltre, vabbè, però accade in tanti paesi che poi c'è una terza componente che è quella nazionalpopulista, in questo caso fa specie che a 50 anni, mi passi il termine liberazione del Portogallo da una dittatura, si ritorni a registrare percentuali a doppia cifra molto significativa per dei partiti post-fascisti, io li posso definire così. Beh, Salazzara era un fascista e poi... Non è che ci stanno i fascisti buoni, i fascisti cattivi, cioè la definizione quella è. O uno è, o non è. Non è che il dittatore... No, ma noi lo diciamo, noi non lo diciamo, non perché vogliamo fare del... ma perché lì è ancora abbastanza fresca la cosa. Eh, ho capito, è abbastanza fresca, però quello che è accaduto in Portogallo ci dice un'altra cosa, ci dice che il dovere della memoria e il dovere della storia, dei percorsi e dei processi per le nuove generazioni sono significative e fa specie in un paese come il Portogallo, che negli ultimi decenni ha vissuto comunque un suo trend diverso. Io glielo dico da un osservatorio privilegiato. Io vivo nella città con la percentuale più alta di portoghesi in Svizzera e presumo in Europa, che è Ginevra. Tanto è tale che una città calvinista oggi ha come prima religione la religione cattolica, che non è data dagli italiani, ma è data dai portoghesi. E la Svezia è un osservatorio privilegiato perché quel paese negli ultimi anni si è registrato un forte rientro verso il Portogallo di emigranti portoghesi. E questo è un merito di costa? Ma è merito di una stagione politica che ha visto rilanciare l'economia, la qualità della vita nel Portogallo e quant'altro. È stata fatta anche una politica fiscale di cui hanno beneficiato tanti italiani. Sì, ho capito, ma le politiche fiscali si fanno in tutto il mondo. Non è che esistano politiche fiscali buone e politiche fiscali brutte. Le politiche fiscali, a volte, ad attrarre o a far rientrare persone, anche l'Italia aveva una politica fiscale incentivante per gli impatriati. Peccato, è arrivato questo governo e l'ha ammazzata. Detto questo, oppure la Francia, gli Stati Uniti, la Germania che preservano l'automotifi in un certo modo, è politica fiscale. Ma torniamo all'elezione in Portogallo. Allora che cosa accade? Accade che lì sostanzialmente è risultato una sorta di pareggio. Mettiamola così. Ora, bisogna capire quali saranno le modalità. Noi qui abbiamo un patrimonio esperienziale, soprattutto durante la Prima Repubblica, durante la quale, come dire, ci si asteneva, non si votava contro, non si partecipava, insomma, in modo per far insediare il governo. Se volessimo, in termini pratici, probabilmente ci sono due strade percorribili. La prima è quella lì di fare un governo dove il centro è minoritario, destra più destra destra e probabilmente lo escluderei, io spero, o almeno voglio coltivare questa speranza. E dall'altro invece riproporsi di quello che un po' accade ormai da un po' di tempo in giro per l'Europa, che è quella della cosiddetta grossa coalizione, che poi alla fine, la volontà del governo, cioè di far partire un governo, di dare un governo al paese, risulta essere poi prioritario. Cioè, è un po' così lo schrema. Quello che deve farci riflettere però è un'altra questione. La questione è il perché noi viviamo in democrazie mature, o forse in alcuni casi potremmo dire stanche, nelle quali non c'è mai una netta, una chiara prevalenza di uno schieramento. Questo dovrebbe farci un po' riflettere e probabilmente dovrebbe farci propendere anche per delle soluzioni di natura diverse. Io lo dico sempre dal mio osservatorio privilegiato. Io vivo in un paese nel quale la concordanza è costituzionalmente stabilita, il che significa per chi ci ascolta, che le percentuali proporzionali del risultato dei singoli partiti vanno a comporre un governo che vede la partecipazione di tutti nell'interesse generale e collettivo. Però non rientra nella tradizione dei paesi latini il termine grosse coalizione, che funziona nei paesi anglosassoni, per esempio. No, perché noi in Italia non abbiamo mai assistito a governi di scopo, governi di unità nazionale. Sì, ma quelli vengono chiamati governi tecnici, dove la politica viene messa da una parte per un premier tecnico. Ma guardi, non è proprio così, perché poi alla fine noi dobbiamo capire il concetto di primo ministro. Qual è il concetto, il valore di primo ministro che noi vogliamo dare? Dopodiché un primo ministro comunque è sostenuto e risponde a un aggregato di partiti, i quali hanno le proprie proposte, i quali devono raggiungere dei piani programmatici e degli obiettivi di condivisione possibile. Io credo che il risultato del Portogallo ci debba aiutare a riflettere sullo Stato delle democrazie stanche. Lei si è chiesto perché dopo il miracolo economico del Portogallo poi c'è stato questo risveglio della destra? Insomma c'è stato il periodo in cui il Portogallo era considerato una delle cenerentole d'Europa, poi piano piano... Allora la dico così, è una legge di natura economica. Se avessimo un grafico lo faccio così. Allora questo, diciamo che questo è lo standard medioeuropeo e qui era il Portogallo. Se tu fai il gradino, no? È chiaro che nel momento in cui fai il gradino poi generalmente la crescita non è che è verticale, poi c'è una fase di assestamento e poi tecnicamente ricresci. È chiaro che questa cosa determina un malessere in generale. Diciamocela tutta, non è che noi viviamo in un mondo dove le persone vivano tutte bene. I processi di cambiamenti produttivi, di sistemi economici creano... Quando noi parliamo aumentano le diseguaglianze, chi è più ricco diventa più ricche, chi è più povero diventa più povero, è sparita la classe media con tutte queste cose qui. Questo non è che riguardi, non è che qualcuno esente dalle questioni. Gli italiani stanno adesso scappando, i pensionati italiani da lì? No, ma non è che uno scappa il giorno dopo l'elezione? No, 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 ma prima già, perché hanno cambiato gli incentivi fiscali. Ma non è che cambiano? Allora, gli incentivi fiscali, i numeri non sono mai stati enormi. Avevamo, vado a memoria, tra un migliaio, un paio di migliaia di persone che si trasferivano in Portogallo l'anno, dati IMSS. Quindi non è che si stava parlando a dire... non c'è stata una cosa di massa come in Bulgaria. Ma non c'è di massa da nessuna parte. E come la vuoi raccontare la notizia? Se andiamo a vedere i numeri nella sua complessità, si aprono dei canali e delle persone, e generalmente chi fa queste cose sono delle persone di alcune fasce sociali che decidono legittimamente di andarsi a fare una vita altrove. Ma mi sembra... cioè non c'è un caso numerico tale da poter giustificare questa grande fuga verso il... non c'è mai stato, insomma. Grazie. E poi naturalmente per come si svilupperà la situazione? Faremo un commento, vedremo un po' come si va. Eh, vediamo. Io spero che il Portogallo, che è un paese importante nel quadro europeo, possa al più presto trovare una sua dimensione, insomma. Va bene. Grazie a Tony Ricciardi e al Partito Democratico.